Bella a tutti da Big Pork, eccoci qua su GTA 5 per PC Regà, guardate che macchina ha scaricato il suino oggi Me l'avete consigliata in tanti, si chiama Conning Seg Spero di averlo detto bene regà Reggera eh Guardate che spettacolo È stupenda regà, l'ho fatta verde, lime, metallica Fatemi sapere se era questa la pronuncia Perché vi giuro non la so pronunciare questa macchina Ah regà adesso vi faccio vedere una cosa che Nell'altro episodio non ho fatto Che mi ha insegnato giochi e nemmeno lo sapevo Allora bisogna andare qui Guardate che spettacolo Ollea adesso si che la vediamo bene regà Diamo la prima persona Ok leviamo quest'arma Guardate che meraviglia regà Beh qui non c'è niente, vediamo il motore Allora c'è scritto qualcosa, si si Eh regà il motore è fatto bene Prendiamo il telefono Così guardiamo tutto come si deve Allora Mamma mia regà si leggono pure Le scritte qua Mio dio Guardate che spettacolo Pure i pneumatici stupendi Eh regà una mod veramente fatta bene Lei cosa c'è scritto? Reggera Andiamo a vedere qua cosa c'era scritto Dove ci sono le cinture di sicurezza Allora Eh regà è fatta Veramente da Dio Guardate i sedili che spettacolo Entriamo dentro che guardiamo gli interni Ricordiamoci di chiudere la macchina regà Ah guardate cosa ho messo Il contachilometro orari Così almeno siete felici Però non so se sono miglia eh Adesso controlliamo Credo che sono miglia Guardate gli interni Spettacolare regà Allora Fatemi chiudere la macchina Posso farlo da qua Spero di sì Allora si faceva da qui Portiere Dove sta? Ok E poi bisogna fare Così Piano Si rompe la macchina regà Guardate che spettacolo questa zona Adesso Ci faremo Due giretti in un bel GP Però con questa macchina super veloce Sapete cosa voglio fare oggi? Voglio fare Koningsegg Spero che si pronuncia così Contro traffico Che dite? Ok regà possiamo andare Facciamo attenzione Mamma mia quanto gira Che non la voglio danneggiare Sentite Mettiamo un altro meteo Perché Se noi mettiamo un altro meteo No scusate Se noi mettiamo tipo questo orario Guardate che spettacolo La macchina si vede veramente bene così eh Meravigliosa Oh mio dio regà Fate finta che non ho fatto niente Rimettiamo le 15 che mi piaceva come meteo Ok Volevo mettere un attimo la prima persona 37 38 Regà La indica che lo mette l'orario Però credo che sia non miglia Andiamola Spingiamo questa macchina No no regà Andiamo piano così Non è vero Andiamo al massimo Vediamo un po' come si guida Là regà c'è il GP eh Quindi dobbiamo scendere giù Ah non da qui Aspettate Possiamo scendere da qua Andiamo andiamo E in questa parte della mappa regà calano gli fps eh Non si capisce il perché Allora andiamo qua Speriamo che non laghi niente regà Ok Facciamo attenzione a questa propita Ah ok C'è il pezzo del GP Che vi lascio in descrizione ovviamente Allora noi dobbiamo andare Esattamente qui si può passare Ci sono i check eh? Sì 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 Inizia da qui allora il GP Andiamo andiamo Belli veloci Allora Questo qua è un GP di PS4 regà Frena Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio regà È veloce questa macchina eh Non posso vedere a quanto stiamo andando Perché se no Faccio un incidente che Non finisce più eh Oh mio dio Pericolosa pericolosa regà Mamma mia come drifta Non c'è la stessa tenuta delle altre macchine Ve lo dico eh Ci siamo arrivati a 200 No 180 credo Frena Frena E purtroppo è scivolosa questa macchina eh Ok facciamo attenzione Perfetto così Adesso perdi qua Alla Questi GP regà li crea Serval E li crea veramente bene Favolosi La cosa bella è che sono su PS4 Aiuto Ah regà Ho preso il paletto Allora Guardate Qui C'è questo punticello qua Che se noi non freniamo in tempo Praticamente questa macchina non frena Ed è un peccato Allora Al secondo giro lo facciamo come si deve Promesso Non volevo sbagliare però È una macchina difficile da guidare Sembrava più facile Ok Andiamo andiamo Cioè È aderente però Può succedere che parte via Allora Per di qua Sì 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 di qua di qua Non ci vediamo Andiamo andiamo Valli veloci Valli rapidi È dopo regà Challenge estrema Questa macchina contro il traffico Andiamo alla massima velocità Vediamo quello che succede Comunque adesso Concentriamoci Vedete qua Vado tipo a 90 fps 80 Se vado là sopra Cominciano a calare Non si salve Ok raga Cerchiamo di guidare come si deve Belli veloci Belli concentrati Raga Oh Aiuto aiuto Non fa niente dai Ok 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 Rapida 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 Oh Leva bene così raga Allora qua dobbiamo frenare come si deve Ok ok Mi sta piacendo il GP qua Frena 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 È sempre pericolosa questa macchina Perché vi dà l'impressione che stia andando tutto bene invece Non è così Ok Allora vi assicuro che questi stanno solo nella storia Nell'online non ci stanno questi paletti Aspettate ripariamo la macchina Eh raga Volevo fare zero incidenti però Purtro È andata così che dobbiamo fare Vado il paletto Nell'online non c'è C'è solo nella storia Ok frena Ma comunque adesso Andiamo a fare Reggera contro traffico Ok Poi non si capisce eh Perché se non usate questa visuale alta raga A meno che non sapete il GP proprio a memoria A memoria quindi sapete le traiettorie come si deve Ce la potete fare Se no Io preferisco usare questa visuale Se no non si vede nada Guardate che bella Stupendo Regà Iniziamo Prima cosa togliamo il GP Sì sì è meglio toglierlo Perché adesso facciamo spawnare Tutto quanto Leviamo i check e leviamo tutto il GP Allora ci serve Il traffico Ok Alta La mettiamo Densità veicoli alta E si parte raga Oh mio dio sono già arrivate le macchine Oh qui dove inizia GTA 5 raga La prima missione Allora facciamo la prima missione No era parcheggiata Leggermente più indietro Sì sì Noi scendevamo tipo da qua Sì raga Questa è la missione Che spettacolo E allora inizia la missione Raga guarda Terzuno come cammina felice Trova una bella reggera Già con la portiera aperta Allora saliamo su Eh si inizia Sì sì Iniziamo che andiamo piano piano Raga Ok avviciniamo la visuale Che è più bella Allora Non dobbiamo fare incidenti qua Per nessuna ragione A quanto stiamo andando 160 180 Però non sto andando al massimo Così è al minimo Volete vedere il massimo Andiamo Ok belli spericolati Un po' di slalom in mezzo alle macchine Mamma mia raga È pericoloso Ok ok Passiamo qua La metto piano piano Vabbè raga Passiamo qui Mamma mia Bellissima questa strada Oh Ho sfiorato una macchina Ok ok Facciamo attenzione Che poi andiamo pure contro mano Ci spariamo pure Una bella miniatura Questa è la parte della mappa Dove C'è quel saltellino Ok torniamo indietro Ok Senza danneggiare niente Ok ok Andiamo di nuovo al massimo Questa volta più spericolati Prima ci è andata bene Vediamo adesso come va Allora Noi proseguiamo di qua Sì sì Raga Quasi 2.20 Sì sì Era quasi 2.20 Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Ok siamo vivi Slalom è pericoloso Mamma mia raga Stupenda questa Ok Rapido 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 Bella questa strada raga Non fate caso a questa mini auto Che ho usato In un parkour Dovrà diventare una macchina Replace Ed è rimasta qui Al posto della pantolina Oh raga Ma la macchina più facile L'ho presa Eh E' una Nonnetta raga Pure arrabbiata E la miseria No 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 Ve lo fa un gestaccio io Aspettate Dai Ok Eccate questo Se vede il gestaccio Sì sì Dove sta Guardala come arrabbiata Andiamo Andiamo Guardate qua Quanto si vede bene Questa macchina Dentro la galleria Spettacolare raga Stupenda Spero che si veda bene Sotto la galleria Vado Quasi A 90 fps Raga Sì sì Oh la mini moto La mini body Raga Devo portare anche la mini pit bike Guardate che spettacolo Comunque Noi proseguiamo Andiamo piano raga Da cittadini Guardate Come si vede bene Cioè io vedo da dio Speriamo che pure voi vedete bene Fatemelo sapere nei commenti Comunque Aveva vinto Notte Gabri Mod Perché il commento più votato E' stata La Bat mobile Quindi ve la porto domani E poi raga Aiuto 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 Pure le moto Anche un bel Kawasaki Ninja Ci vuole Noi ci parcheggiamo Un attimo qua Consigliatemi pure Qualche motocicletta Facciamo benzina No raga Non c'è la moda Della benzina Comunque Ritorniamo Al posto di prima Allora Andiamo qua Sempre piano Guardiamoci Questa bella macchina Che stupenda Raga Piano 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 Stiamo andando a 30 Si 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 saliva Non da qui Ma dobbiamo fare il giro A te te supero Ok Ok Oh guardalo Questo come gira Non è normale Raga Veloce Non posso suonare il clacson Perché c'ho il turbo Guardate Ok Andiamo qua Noi Non si Sapete che vi dico I miei finali Non sono mai Normali Aspettate Piano 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 Che non succede niente Via Raga Comunque sia Se vi è piaciuta Questa macchina Il GP E la guida Spericolata In mezzo al traffico Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate su tutti i canali Che torna in descrizione E noi ci becchiamo Al prossimo video Bye Ciao